La storia di una vergine giurata e che secondo le leggi di quelle montagne decide di diventare un uomo per ottenere apparentemente delle maggiori libertà che in quei luoghi sono solo per gli uomini. Il prezzo che deve pagare è la verginità. Noi raccontiamo in particolare la storia di questa vergine giurata che è Ana che appunto diventa Mark e che a un certo punto dopo tanti anni di solitudine e isolamento va in Italia a ritrovare questo affetto di questa sorella con cui è cresciuta e a ascoltare il suo corpo un corpo che appunto è sotto e preme per uscire e quindi fa tutto un percorso in Italia per riprendersi la parte femminile che ha messo via per Ana Stavo cercando una storia che è arrivata. Non è stato lunghissimo il periodo di gestazione. È stato un tuffarsi subito, abbiamo preso appunto l'opzione al libro abbiamo scritto la prima sesura che ho subito consegnato ad Alba dall'inizio e poi da lì siamo passati circa diciamo dalla prima sesura tre anni e mezzo quindi è stato un lavoro lungo di scrittura e riscrittura con Francesca Manieri che firma la sceneggiatura aveva già lavorato con me il film ha una struttura particolare quindi era complesso e poi insomma ci abbiamo lavorato tanto La sceneggiatura è una bellissima sceneggiatura il libro di Elvira Dones è un bellissimo romanzo poi la sceneggiatura si ispira a quel romanzo e poi diventa un'altra cosa è un regalo che Laura mi ha fatto lei ha avuto proprio una visione perché la cosa secondo me più normale era quella di andare a cercare lì questo personaggio e gliel'ho anche detto ma siamo sicure? e lei era talmente convinta che ce l'avremmo fatta insieme e era talmente convinta che io avrei incarnato quel personaggio come lei voleva che la sua convinzione assoluta mi ha detto va bene io mi butto ma sei frocio? allora sei una lesbica travestita? io questa identità sessuale così difficile come l'hai preparata? come l'hai pensata? l'idea era quella di non di raccontare un uomo ma di raccontare un corpo che fosse una gabbia una prigione qualcosa di scomodo e quindi che ci fosse sì un atteggiamento maschile che dovesse essere in qualche modo credibile per una persona che nasce in quei luoghi cresce in quei luoghi fa una vita molto a contatto con la natura e quindi però dietro questo atteggiamento questa prima immagine uno potesse intravedere una figurina di una di una donna che questo personaggio per gran parte di questa storia nega io mi sono proprio innamorata di questo personaggio della complessità di questo personaggio il film ha voglia di stratificare c'era voglia proprio di raccontare la complessità e quindi anche in questo senso fare un viaggio verso quello che poi spero arrivi che sia il senso del film vorrei che il discorso si allargasse il più possibile verso una creatura ecco che sia più ampio rispetto al maschile al femminile secondo me una delle più grandi rivoluzioni di questa epoca è questa cioè l'allargare la libertà di definizione personale rispetto ai generi è comunque un cambiamento molto grosso di questo periodo secondo me in positivo i dialoghi sono stati scritti in italiano tradotti tutta la sceneggiatura è stata tradotta in albanese però dopo di che i dialoghi invece sono stati riadattati con le persone delle montagne io sono stata proprio uno dei viaggi che ho fatto era sia per i superluoghi ma mi sono dedicata tre giorni con queste persone delle montagne a riadattare tutti i dialoghi col dialetto gag la scelta che dava un po' tutto un'impostazione era l'idea di girare tutto il film in pieni sequenza l'idea era di avere delle teste e delle code molto più lunghe rispetto alla scena che era scritta in sceneggiatura ci sono dei momenti nel film secondo me preziosi che sono nati proprio in questi spazi era un'aderenza alla vita vera di quel momento in questi processi così lunghi ci sono dei momenti di scoramento in cui pensi non ce la farò continui fino al giorno prima delle riprese anche durante anche durante no vabbè durante poi parti è stato tutto difficile ma difficilissimo sembrava veramente a volte non si avvererà mai non partiremo mai e poi invece partivamo non impareremo mai non imparerò mai l'albanese poi è le montagne spero no guarda è stata la neve non ci doveva essere ci svegliamo due metri di neve impreparati a tutti è stato anche molto divertente quindi ci siamo era bello fare questo film ho fatto il film che volevo fare è allo stile che sto cercando un film che avesse una poesia però unita a questa poesia qualcosa di asciutto e qualcosa di ruvido è